A Cremona il fiume Po risente della grave siccità e si trova attualmente a 26 metri sul livello del mare, una situazione che non si presentava dall'estate del 2012. La mancanza di precipitazioni incide pesantemente sull'agricoltura di tutto il territorio, sia quello che viene fornito a livello idrico dal Po attraverso l'impianto di sollevamento del Consorzio Dugali, sia la zona del distretto Naviglio ad Aserio, che riceve acqua con un sistema gravitazionale. Nel primo caso le risorse idriche per le coltivazioni verranno comunque erogate, ma l'aumento del prezzo dell'energia sarà un grosso problema. Nella zona lambita dai fiumi Ada, Olio e Serio invece vi saranno più difficoltà per l'agricoltura, perché il distretto dipende in toto dalle precipitazioni. Non resta che sperare in un'estate piovosa. Attualmente il Po ha un livello misurato qui nella sezione di presa del nostro impianto di Foce Morbasco di circa 26 metri sul livello del mare. È prossimo a livelli che erano stati raggiunti nei mesi di agosto, quindi il mese dove storicamente si ha la maggiore siccità del fiume, negli anni 2012, 2015 e 2017. Più che altro la preoccupazione è dovuta al rincaro dell'energia elettrica, infatti stiamo parlando di un impianto che ha una potenza complessiva a pieno regime di circa 3.000 kilowatt e le spese chiaramente sono ingenti. Si pensi che l'anno scorso abbiamo dovuto far fronte a costi per l'energia elettrica che sono quasi pari al milione di euro. Per quanto riguarda invece tutta l'altra area dove l'acqua viene servita a gravità, noi chiamiamo antica irrigazione, quindi parlo di tutta il distretto del Naviglio, la zona dell'Alda Serio, quindi l'Alto Cremasco, la zona sopra Cremona. Qui a maggior ragione rispetto al Po risentiamo del problema della siccità. Come dicevo i fiumi sono, i livelli sono bassi, i laghi sono prossimi al minimo storico. Il vero problema, come dicevo, è che l'assenza di un adeguato manto nevoso, il quale sciogliendosi dalla primavera in poi garantisce un costante apporto, un afflusso al lago, questo può provocare seri problemi.